Writer dispone di una funzione di cerca e sostituisci che automatizza il processo di ricerca del testo nel nostro documento possiamo selezionare la finestra di cerca e sostituisci attraverso la scelta rapida dei comandi CTRL più F oppure andando nella barra del menu su modifica e selezionando cerca e sostituisci oltre che cercare di sostituire parole o frasi Writer ci permette di usare delle espressioni regolari oppure di cercare di sostituire delle frasi o delle parole con un determinato formato quindi con una certa formattazione del testo oppure cercare di sostituire degli stili di paragrafo per esempio se noi vogliamo ricercare nel nostro documento tutte le parole open scriviamo in cerca open e facciamo cerca tutto vediamo che Writer va a selezionare nel nostro documento tutte le parole open se vogliamo sostituirle tutte insieme con open scritto tutto in maiuscolo facciamo sostituisci tutto in automatico ci esce il risultato che il testo è stato sostituito per 14 volte vediamo che tutte le parole open adesso sono scritte in maiuscolo se invece vogliamo sostituire a questo punto open in maiuscolo con open scritto in quest'altro modo e con una formattazione in grassetto selezioniamo appunto il formato della parola da sostituire e quindi andiamo a selezionare grassetto ok, sostituisci tutto vediamo che a questo punto open è stato trasformato da open scritto in maiuscolo in open scritto in quest'altro modo con una formattazione in grassetto e quindi andiamo a selezionare 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 grassetto Grazie a tutti.